Buongiorno, benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 5 febbraio, voglio veramente salutare tutti quanti quelli che ieri hanno seguito Quarta Repubblica, devo dire che in questa fase stiamo andando velocissimi e molto bene. Quali sono i temi della giornata? Insomma per quelli che hanno seguito ieri Quarta Repubblica i temi della giornata sono esattamente quelli che abbiamo posto ieri sera con Salvini, sui giornali ovviamente oggi ho fatto una ricerca, cioè quanti di quei giornali hanno citato Quarta Repubblica ieri? Pochissimi, pochissimi, ovviamente se tu leggi una cosa che arriva dalla 7 sul Corriere della Sera ci sono le paginate citando i giornalisti, facendo vedere le foto, se arrivano da Quarta Repubblica che sono piccolini e ultimi arrivati forse questo non arriva, ma diciamo che l'agenda setting, come dicono quelli che parlano bene, è stata fatta ieri sera, per fortuna, non certo per bravura di Quarta Repubblica perché era il giorno giusto in cui avere Salvini e quindi andiamo per ordine. Prima questione, la TAV, sulla TAV, buongiorno Monica, buongiorno Paolo, la questione è molto semplice, l'Europa ieri ha minacciato attraverso il suo rappresentante in commissione Enrico Brivio di riprendersi gli 800 milioni che ci aveva dato per l'iniziale progetto della Torino-Lione. Il messaggero dice oggi col suo titolo di apertura un miliardo che dovremo subito restituire alla Unione Europea, a Hug, Giorgio, gli altri giornali più filogovernativi, il fatto tra questi dice che si tratta di una balla, che non dobbiamo ridare nulla, il Movimento 5 Stelle dice che non dobbiamo ridare nulla, insomma lo capisce anche un bambino piccolo che se ci hanno dato dei soldi per fare qualche cosa che poi non facciamo, evidentemente quei soldi se li riprendono indietro ed è del tutto velleitario, come oggi qualcuno scrive, Toninelli e altri, sui giornali pensare che quei soldi, no scusate non li facciamo per la Torino-Ligone, li facciamo per la Torino-Metropolitana, cosa sacrosanta se volete fare la Metropolitana-Torino, ma non erano i soldi dati dai progetti europei per fare quella roba lì, pensate che una trattativa in Europa per dirottare dei soldi dalla Torino-Ligone quando i francesi li hanno già spesi per fare il buco possono poi essere dirottati a qualche cos'altro, ma insomma in un contratto normale non tra paesi ma tra privati questo sarebbe impossibile, vedremo se così sarà. Ma l'altra cosa bellissima, anzi straordinaria, è quella che scrivono oggi Gian Antonio Stella e Marco Imarisio sul Corriere della Sera, perché cosa succede? Raccontano di un video fatto da Buffagni, che è un sottosegretario della Presidenza del Consiglio, uno degli uomini importanti, ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Lombardia, che va sulla Brebemi e dice non fidatevi dei politici, pensate ai numeri e ai dati, alla realtà, perché i politici vi raccontano un sacco di balle sulle infrastrutture, questa strada è deserta e ha devastato il territorio, non so se abbia devastato il territorio, grande Alessandro, bello il risultato, è merito anche tuo. Stella e Imarisio che cosa fanno? Stella e Imarisio dicono scusatemi ma in realtà Buffagni che parla dei tecnici, dei numeri della realtà, è lo stesso Buffagni che ha come movimento politico insieme a Toninelli nominato in commissione analisi costi benefici Marco Ponti come Presidente, l'uomo Notav, perché se è quel Marco Ponti e quel Marco Ponti che sulla Voce.info scrisse nel 2015 che la Brebemi era un risultato eccezionale e che era straordinaria e che avevano fatto benissimo a farla, cioè il senso ultimo è che ragazzi non è possibile che i numeri ve li portate a casa solo quando vi fa comodo, cioè la Brebemi, il vostro Notav dice che funziona, il vostro Notav dice che la Tav non funziona, in quel caso è un numero che vi piace, una realtà che vi piace quindi lo accettate, nell'altro caso no ed è straordinario. Il fatto che questo Ponti, l'uomo che dice che deve contare i fagioli come una sua intervista recente sia pro autostrade e contro strade ferrate è fuori di ogni dubbo, alcune telefonate con l'amministratore delegato delle autostrade lo certificano, va bene? Perché questo si sente con l'uomo delle autostrade, cioè quello che guadagna dai pedaggi e che un minimo di conflitto di interessi nel non volere le ferrovie evidentemente c'è. Buongiorno ad Emma. Altro tema di giornata è ovviamente Maduro, anche questo posto ieri sera da Salvini, perché Salvini dice abbiamo fatto una figuraccia a non essere nel gruppo delle persone che volevano Guaidò nuovo presidente e soprattutto nuove elezioni immediatamente in Venezuela. Tra l'altro non è autoproclamato, lo diceva ieri bene Salvini, lo ha detto bene Aida Iespica ieri sera, cioè che probabilmente conosce la costituzione del suo paese meglio di quanto lo conoscono i nostri grillozzi e commentatori. Non è un autoproclamato presidente del Venezuela, è di diritto. Il Parlamento, visto che non si è arrivati ad elezioni come si sarebbe dovuto arrivare, nomina presidente ad interim in questo periodo il presidente della sua assemblea, quindi è perfettamente costituzionale quello che ha fatto Guaidò e comunque oggi i giornali ricordano come 19 paesi abbiano riconosciuto la necessità di fare elezioni subito tranne l'Italia. Resta Salvini che su questo ieri sera a noi dice in maniera chiara, netta, riguardatevelo ovviamente su Mediaset Play, dice in maniera netta e chiara che si tratta di un figuraccia incredibile dell'Italia. Terza notizia di giornata è la presentazione del reddito di cittadinanza, tutti sfottano sulla platealità con la quale Conte e Di Maio la presentano, io insomma devo dire dopo essere passato da Berlusconi, da Renzi, forse Gentiloni no, ma insomma dalla platealità delle presentazioni loro, non mi stupisco di quello che hanno fatto ieri con quello palco, come si alza la carta di credito che si tira fuori, insomma mi ricordavo quando parlavano del partito di plastica di Berlusconi, beh questo è il partito del grande fratello obiettivamente nella sua presentazione, ma non è questo che mi scandalizza, quello che mi scandalizza è che ancora non abbiamo i numeri, cioè come si fa ancora a non sapere quante persone godranno di questo, cioè ci può essere un margine, ma oggi il Sole 24 ore dice che secondo il governo e la relazione tecnica sono 2,7 milioni i beneficiari di questa carta, secondo l'Istat sono 2,4 milioni, secondo il rappresentante, il sottosegretario comunista al lavoro e l'uomo che si è inventato questa roba qui, Tridico sono 4 milioni, tra 2,4 dell'Istat e 4 milioni di Tridico ballano miliardi di Euro, insomma per me l'idea di avere questi numeri così ballerini mi dà un po' il senso di provvisorietà nella politica e soprattutto nella spesa pubblica e cambia molto quanto spendiamo per questo reddito di cittadinanza. Due cose interessanti oggi del fake quotidiano, la prima spero sia vera, ma è incredibile in effetti, ieri sera hanno mandato in onda uno speciale su Benigni con gli ispezioni vecchi che aveva fatto a Rai 2 e hanno speso 200 mila Euro, il motivo il quale il fatto lo scrive è perché la settimana scorsa avevano fatto gli ispezioni di Grillo e avevano speso 30 mila Euro, allora è piuttosto singolare, ovviamente loro lo dicono in funzione pro Grillo, dicono 30 mila per Grillo, 200 mila per Benigni che tra l'altro ha perso con Rete4 ieri, cioè con noi, ma il punto è un altro, ma voi mi dovete spiegare per quale motivo al mondo, per quale motivo al mondo io devo spendere dei soldi per qualcosa che ho trasmesso sulla mia emittente, è come se qualcuno pubblicasse sul sito nicolaporro.it, tra poco vedrete un pezzo straordinario di Luca Telese e quando io fra sei mesi loro il pubblico devo ridare dei soldi a qualcuno, cioè se tu fai un programma per la Rai, è fino a prova contraria della Rai, almeno così io immaginavo, invece no, loro fanno i programmi per la Rai, vengono pagati dalla Rai, ma i diritti rimangono loro e questo vale per Grillo, Benigni e probabilmente per tanti altri artisti, beati loro che riescono a ottenere questo risultato. Quinto elemento di giornata, tira fuori il fatto quotidiano, è il processo a Salvini che voi sapete essere per la nave 18, in cui l'imbarazzo del Movimento 5 Stelle perché nell'aggiunta per l'autorizzazione a procedere dove ha sette rappresentanti dovrebbe votare secondo gli standard suoi del passato, votare sì per il processo. Allora, il fatto quotidiano oggi dice che probabilmente inventeranno un referendum per gli iscritti, quindi una manipolazione come fanno sempre quando si fanno questi referendum fake dagli iscritti per capire come comportarsi, insomma una piccola farsa. Direi che, no, come tornerai? Sto benissimo, Freccero abbassa la spocchia, Freccero comunque uno simpatico e nella sua testa geniale, Joe ma come fanno a saperlo? Perché ci sono tante persone che dichiarano che non hanno niente, non è vero, faranno dei controlli rigidissimi, dice oggi il sole 24 ore, addirittura il sole dice che sul reddito di cittadinanza se rifiuti la prima proposta di lavoro, beh, insomma, da quel momento in poi iniziano i controlli. Beatrice dice, Nicola, notizie del giorno, il puritano Travaglio fa assumere il figlio, beh, di questo ne riperleremo più tardi sul sito nicolaporro.it, tutte le informazioni della giornata, a parte questa zuppa. Grazie ancora averci seguito così numerosi ieri sera e ci vediamo più tardi sul sito. Ciao!